Il Musa, Museo della Sacralità dell'Acqua e degli Acquasantini, allestito nell'oratorio di San Rocco di Frazione Livera a Pettinengo, ospita un'importante collezione di acquasantiere domestiche raccolta negli anni da Sergio Trivero. Alla sua morte la collezione è stata lasciata in eredità al canonico Angelo Stefano Bessone, che nel 2016 l'ha donata al DOCBI Centro Studi Bielesi. Il DOCBI si è quindi fatto carico dell'allestimento museale, in collaborazione con il Comune, la parrocchia e le associazioni del territorio, Face Futuro, Piccola Fata, le Proloco di Pettinengo e Vaglio. Nel museo sono esposti oltre 650 acquasantini, scelti tra gli 850 che compongono l'intera collezione, suddivisi per materiale o per tipologia. Un settore specifico è dedicato agli acquasantini di Europa. Il museo è stato dedicato alla memoria di Sergio Trivero, giornalista, studioso, bibliotecario biellese che in collaborazione con Angelo Stefano Bessone per anni ha studiato la devozione popolare in ambito biellese, rivestendo un ruolo di primo piano nella crescita culturale e sociale di Pettinengo.